Stamattina, a seguito di una lunga attività investigativa diretta dalla Procura di Reggio, è stata data esecuzione ad un decreto di sequestro di beni nei confronti di Girolamo Cutri, classe 1956, in atto detenuto, esponente di spicco della cosca Crea, operante nel comune di Rizziconi e in quelli limitrofi della piana di Gioia Tauro. Cutri era stato arrestato nel maggio 2014 nell'ambito dell'operazione Deus, a carico di 16 esponenti della stessa cosca, ritenuti responsabili di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione aggravata, intestazione fittizia di beni e truffa alla comunità europea. In particolare, l'attività investigativa aveva evidenziato l'assoluta egemonia della cosca Crea, esercitata sul territorio come una vera e propria signoria, sia nell'esercizio delle tradizionali attività criminali che nel totale condizionamento della vita pubblica, tanto da determinare nel 2011 lo scioglimento del Consiglio Comunale di Rizziconi. La sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio ha quindi disposto il sequestro dei beni riconducibili a Cutri per un valore complessivo di circa un milione di euro, tra i quali due terreni, un appartamento e l'impresa olivicola del figlio Vincenzo, oltre che conti correnti e libretti di deposito. L'operazione di carattere patrimoniale segue l'intervento che la Polizia di Stato realizzò in agro di Rizziconi nel gennaio scorso, che fruttò la cattura di due superlatitanti, Giuseppe Crea, capo dell'omonima Cosca, e Giuseppe Ferraro, ricercati da oltre 20 anni.